Vieni qua caro mia, oggi ti presento una mod che aggiunge mostri, animali, aggiungono un po' di tutto, ma secondo me Ferri ne abbiamo fatto tante, ma a questa qualità mai vista nientissima Ma dici, guarda che difficile superare la qualità di quelle che abbiamo già fatto, Stef Allora, allora aspetta Che c'è? Chi stai cercando? Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Ti devo chiarire subito come funzioneranno oggi le cose, hai capito che animale è? Mi sembra un camaleonte, cioè dalla forma Ok, stai già immaginando cosa sto puntando Ferri? A fargli cambiare colore? Esattamente Ma non ci credo che diventa viola, dai no Allora aspetta un attimo Cioè posso capire verde, è un colore naturale Guarda, lo spingo un pochino Guarda adesso, eh Sta un po' fluttuante Guarda, guarda Ma identico, è lo stesso colore del blocco Te l'ho detto Ne voglio uno Con tutti i colori Ferri Ne voglio uno Iniziamo quindi con i vari animali e le varie mostri Non so se hai notato, guarda come cambia nel metro Guardalo È bellissimo Ma poi è bellissimo perché cambia in modo graduale, non è che lo fa così di secco È bellissimo Lo so, lo so, lui è davvero fantastico Comunque, questo qua è il camaleonte Pensa alla serie di Minecraft con il camaleonte in giro Secondo me Certo Meriterebbe già tantissimo Poi passiamo al numero due Ferri Torno un po' serio Ok Qua abbiamo delle cose particolari e importanti Prima di tutto, prenditi la spada Terza cesta Solo la spada per adesso Mi è venuta in mente una cosa però, Steph Ah Ma non è che se lo metti sul vetro diventa trasparente Sto ancora pensando al camaleonte, sì Vuoi fare qualche esperimento con il camaleonte? Se sul vetro diventa trasparente È la cosa più bella del mondo Ok, vado un attimo, prende tutto Ok, vai Vediamo, va Forse lo stava diventando, eh Secondo me lo stava diventando Guarda Aspetta, aspetta, aspetta No No No, no, no Diventa comunque colore del Però abbiamo un po' di colori che tu ancora non hai visto Del vetro di cielo Dato che ci siamo Ti faccio vedere un po' di coloretti Ma non devi scendere Tranquilla, tranquilla Ferri, ne abbiamo tanti Guarda Questo è migliore Opla Poi abbiamo Opla Che carini che sono Vabbè dai, passiamo i prossimi che ti ho già fatto perdere troppo tempo Hai la spada, giusto? Però dai, fosse stato trasparente, Steph Ne sarebbe valutare Sarebbe stato epico Sarebbe stato epico Sì, certo che ce l'ho Vai Allora, non attaccare subito Ma osserva Cosa noti? È uno slime Guardalo bene Ok Dammi la torta Ok Tanti altri piccoli Vai, vai, vai Piovono torte Adesso Piovono torte Riguardalo bene Ok Ci siamo? Hai capito? Non hai capito? È lo slime del cibo o cosa? No Ancora di più Meno limitata, Ferri Meno limitata Andiamo mentre sconfiggi Ma che vuol dire? Sono gelatine allora Guarda Guarda Aiuto Deve mi picchiano Aspetta, Steph Hanno degli oggetti Casuali o cosa? Esatto Perché questo è il biscotto Sono degli slime Che tipo incorporano Qualsiasi oggetto dentro Ora li messi troppi, Steph Qui abbiamo esagerato un pochino Guarda Di esempio questo qua Al ferro Questo è il biscotto Voglio i biscotti Mi picchiano Aspetta, aspetta Voglio il biscotto Ho esagerato Allora Voglio il biscotto Almeno pugni Perché non mi sono andata una spada anche io? Porca miseria Non lo so Ehm Pensa a non morire Arriva Robin Hood Ma che cazzo Mi hai ucciso tu Mi hai ucciso tu Che cosa hai combinato, Steph? Ho mancato di slime E cos'hai combinato? Scusami Ma ti sembra? Stavano saltando Non è colpa mia Ti sei messa un po' in mezzo Sì ma stavo così bene Senza di te Sinceramente Ma la stavo Ma la stavo gestendo Egregiamente Anche da sola Steph E direi che mi son Proclamato Robin Hood Poi Praticamente Sono degli utensili Di Minecraft Impossessati da uno spirito Mi picchiano Picchia Se la mazzi Ti dà l'oggetto Ovviamente è casuale Quindi può capitare Qualsiasi cosa Ok Carino, vero? È molto bello Aia Guarda Vedi Non esagerare Come hai fatto prima Tranquilla Poi questo qua È un creeper particolare Abbiamo visto la stessa cosa Guarda Si chiama Rocket Creeper Abbiamo visto la stessa cosa Guardalo su di me Che è un tuffo carpiato Devi vederlo da lontano Guardalo Ok Guarda com'è No, l'ho visto da lontano È un tuffo carpiato a testa in giù E dalle testate al suolo Dimmi che non è meraviglioso No, questo è il migliore Forse batte anche i camaleonti Secondo me i camaleonti è imbattibile Dico la verità Steph È molto bello Poi Andiamo avanti Vai, sì Che meglio Abbiamo il Traveling Mercant Ok Praticamente è un villagero mercante Che viaggia per il mondo Ok Se ne sta davvero andando L'unico modo Per essere seguita dal Traveling Mercant Ok E avere dei soldi E avere degli smeraldi Ma come si gira? Guarda Ma poi è bellino E con lo zianetto da trekking in spalla Sembra che sta andando a fare un'escursione Se ti fai il tasto destro Ok Vedrai che lui ti vende delle cose Cioè È il contrario di un villaggio normale Ok Praticamente ad esempio Questo qua in particolare Per cinque pesci cucinati Ti dà uno smeraldo Ok Dopodiché con uno smeraldo puoi comprare Vabbè delle palle di neve Questo è capitato un po' sfigato Aspetta che ne mettiamo un altro Ah capitano diversi? Sì fai Ok Questo esempio Guardali come Questo con cinque di pane Ti dà uno smeraldo Con uno smeraldo ti dà dieci di oro E con uno smeraldo ti dà anche quindici di neve Insomma comunque Ha degli scambi abbastanza interessanti E se i tulimoni vanno in giro per il mondo Li puoi incontrare così a caso Ok Secondo me sono molto carini No molto carini Molto carini Poi il prossimo Buon viaggio Sono ancora rimasti lì Secondo me sono scioccati dal tuo smeraldo Ecco sono partiti Il prossimo è di nuovo un creeper Ma perché hanno sta faccia? La faccia felice poi Che cavolo mi la c'i TNT se mi guardi sorridendo Prova non attaccarlo ma prova ad andare lì addosso Ok Se non esplodo Ma va via Mi sta schivando Stef Lui scappa dalle persone E nel mentre tira la TNT Ma non riesco a ucciderlo Ce la faccio sorridendo Rispetto al creeper Che normalmente ti viene incontro ed esplode Lui tira TNT ma vuole restare a distanza Guardalo Guardate com'è felice Però devo Stef Sta distruggendo il mondo Lo so Vai vai stendilo Cioè per quanto mi dispiace Perché è davvero carino e sorridente E fa piacere averlo intorno Però ha fatto dei buchi enormi E mi sembrava anche di smetterla Carino vero? Molto Ok Il prossimo è il Lost Miner Dobbiamo andare in miniera Conosci una miniera qua in zona Fere? Sì Mi sa che lì di fronte c'è qualcosa Ok Io ti seguo Mi raccomando Perché io non ho minimamente idea Di avere c'è una miniera in questa zona No per forza allora Qui ci dovrebbe essere Sembra una zona da miniera Ma se non ricordo male C'è proprio un ingresso Qua No qua c'è l'acqua Bisogna giusto cercarlo Ok cerca bene Fere Eccomi Stef Finalmente qualcuno Metti luce Metti luce Che ragiona Allora ti presento Il minatore perso Ok Lui praticamente era miniera Stava prendendo un sacco di minerali Un sacco di roba Stef Sta piangendo Eh sì È triste Se mi fai finire la storia Ah ok vai Lui stava prendendo un sacco di minerali Un sacco di cose E si è perso In questo momento è disperato Infatti sta piangendo Ci ha appena incontrati E ha deciso che ci seguirà Infatti se noti Se io mi muovo Lui mi segue Ok Ma l'uscita è dall'altra parte Se tu lo porti qui Vieni con me Mentre metti luce Fere Grazie mille Ok Tu lo porti qua Gli fai vedere dove è l'uscita Adesso penso che stia seguendo me Comunque Ti ha perso di vista Ma porca miseria No no è qua è qua Guardalo Non è molto capace A fare i gradini Eh vabbè ci sta Forse è stato troppo tempo In miniera Sta panicando troppo Esatto non si ricorda più Come si fanno i gradini Ok Vieni 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 Lui viene fuori Ok Ok scendi 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 Ti è lanciato vieni Adesso rimani fermo ad osservarlo Vedi che è felice Eh non sta più piangendo Ok No aspetta ripreso a piangere No 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 È felice È felice È felice È un po' in decisa Sta piangendo di gioia Giusto Ok Guarda adesso cosa fa Ok Ok tu continua a osservarlo Prima o poi Adesso sta facendo Amico mio Fa le stelline di felicità Un po' più veloce No Faccio il tasto destro E dagli esmeraldi Vedi vedi Perfetto Perfetto Comunque è super fantastico Ho fatto un fail incredibile Allora torniamo alle ceste Che non so più dove sono Perché ci siamo persi Devo smetterla di fare dei fail Perché non posso andare avanti così Eh ho notato Non è possibile Ok vedo il nostro vetro Qua 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 Perché mancano ancora Sì eravamo vicini Diverse creature da evocare E secondo me alcune ti piaceranno Ancora tantissimo Allora rimettiamo questo Ovviamente a posto Oh Che abbiamo adesso Allora hai degli esmeraldi Giusto Sì Ok Allora Stai Vieni qua Ok Stai un pochino a distanza Ok E io evoco questa bestiolina qua Ok In questo caso Come puoi vedere Lui tiene un diamante in mano Sì Perché può spawnare Con dei materiali in mano Vieni qua Ok Ignora quello Può spawnare anche senza Hai capito? Cioè ti ruba Guarda Guardalo di nuovo Hanno questo spawnato con Questo spawnato Eh porca miseria Ma spawnate sempre ricchi Ok guardalo eh Guardalo No vai via Opla E se ne va Me lo ruba Ok È un ladro Perfetto Steph È un ladro Ovviamente se lo ammazzi Recuperi Ma secondo me non puoi ammazzarla È troppo carino No comunque sarebbe utilissimo Avere un esercito di questi Tipo nel mondo di Minecraft Pensa a tutti i player Che vengono derubati Dall'esercito dei tuoi cosi È bellissimo Steph Quanti smeraldi ti avranno rubato Niente che lo sai più Sono troppo veloci per te Sono troppo veloci per te Mi ho finito Steph Me li hanno rubati tutti Davvero? È certo Fantastico Ne avevo pochi Non è che ne avessi così tanti Quanto è bello questo Vero? Bellissimo Molto carino Molto Che lo perdono prima Ok No non su di me No No Porca miseria Vero colpisci No Ok Ok Hai capito Caffa Ti salta in testa? È tipo alien No C'è la contesto Perché sono più intelligente Ok Ti mangio il cervello Cioè che cos'è? Guarda Guarda Lo vedi? Ma no Ma è brutto questo Brutto Steph Mandalo via Ok Cioè che cosa ti fa Ti mangio il cervello? Sì Si chiama brain slime No Steph Basta È troppo macabro Ma perché non te ne sale uno in testa? Ma farei ma ce l'hai il cervello? No Guarda puntalo solo a me Porca miseria Oh stai giù eh Probabilmente perché lo evochi tu E quindi fa su di te Non lo so Ne hai uno gigante adesso Aiuto No che schifo che fanno comunque Oh mamma mia Cioè qualcuno deve andarti sopra la testa prima o poi Qualcuno ti deve andare sopra la testa Loro sono troppo bellini Ok Oh È una mini pianta Sì È all'alberello in mano Che fa? Niente Pianta o no? Sono dei mini alberelli Vedi? Non pianta no? No L'unica cosa è che se sono Carini Cioè in base al bioma in cui sono Infatti qua siamo nel bioma classico Sono del vari tipi di alberi L'hai riconosciuto? È il tucano È un tucano? Che cos'è? Te le faccio vedere altri Magari ricordi qualcosa Un tacchino Cosa dovrebbe essere Per e ci abbiamo passato ore Cioè ore? Con questi animali Tantissime ore Ma quando? Tanto tempo fa Ma quando? In un videogioco Un videogioco con i dinosauri I dodo Sì È un dodo Ma non me l'avevi detto che dovevo andare così tanto indietro nel tempo Scusa Guarda A me sembravano i tucani Sanno fare un sacco di roba ma ci mettono una vita a farla quindi non ho troppo voglia Possono sponare sia le uova dei dodo Sia danno una carne che si è cotta su ama tantissimo rispetto a quella dei polli normali E li puoi pure addomesticare Ma è difficilissimo farlo perché praticamente loro vogliono un semino diverso ogni volta Non ne hanno uno costante Può passare capito dalla barbabietola al grano E tu non lo saprai mai Vuoi questo semino? No non lo vuole vedi Non lo vuole Tu lo vuoi? Magari un altro lo vuole ma lui non lo vuole Magari un altro lo vuole ma lui non lo vuole ma lui non lo vuole ma lui non lo vuole ma qua